La ricerca scientifica è fondamentale per lo sviluppo di un territorio, di un'economia, ma in un contesto di crisi come quello attuale, come si coniugano le due cose? Nel momento di crisi bisogna scegliere su cosa investire per il dopo crisi, perché sicuramente sono necessari i tagli, è necessario ridurre le spese in generale, ma bisogna cercare di puntare sui punti di forza di un paese e su quello che oggi ci richiede un'economia globale. La competizione oggi in cui i paesi europei non possono che competere sulla qualità, sull'innovazione, sulla capacità di introdurre nei prodotti molta conoscenza, viene solo attraverso un grosso investimento nella ricerca. Io penso che proprio in questo periodo noi dobbiamo essere profondamente convinti che la ricerca rappresenta un elemento centrale, la ricerca, la formazione, tutto il processo di sviluppo di conoscenza rappresenta veramente l'elemento per competere nel futuro. Quali sono i settori a livello nazionale e anche a livello sardo?